La cocciniglia scudetto o mezzo grano di pepe, praticamente quella che stiamo vedendo qua, è la femmina dell'adulto della cocciniglia. Ci sono molte specie, ma tutte facilmente riconoscibili a causa della loro forma che ricorda un chicco di pepe tagliata a metà. Quello che stiamo osservando quindi non è altro che l'adulto della femmina che si ricopre con questo strato ceroso più o meno scuro che gli serve per difendersi. Sotto a questo guscio protettivo la femmina contiene le uova che possono essere anche fino a 2000 o 3000 e possono schiudersi una volta giunta a maturazione in poche ore o al massimo in qualche giorno. Sono insetti che si alimentano della linfa delle piante ed attaccano moltissime specie di piante. Le più comuni sono l'olivo, gli agrumi, la vite, l'alloro, il pero, il melo, il pesco, il susino e il ciliegio. Le punture causano alterazione degli organi vegetali. Se asportiamo un adulto notiamo la decolorazione dello strato cellulare dove l'insetto ha eseguito queste punture. Nel caso delle foglie necrotizzano e poi pian piano le foglie cadranno ed ecco che la pianta si debilita. Oltre al danno diretto causato dalle punture la cocciniglia causa anche un danno indiretto. Questi insetti producono anche un essudato zuccherino, scarto della loro alimentazione e da lì si sviluppa la fumagine che ostacola la fotosintesi clorofiliana. La lotta è eseguita con gli insetticidi biologici che agiscono per asfissia sull'insetto sfruttando quindi la scalza mobilità delle femmine. Un primo intervento si esegue nelle fasi precedenti alla ripresa vegetativa, si fa con olio bianco o con olio minerale quindi dobbiamo sempre stare fuori dal freddo invernale e comunque con minime notturne superiori ad 8 gradi centigradi. I trattamenti successivi si faranno sempre con olio bianco o olio vegetale e si fanno sempre sullo stadio giovanile perché il prodotto insetticida è più efficace. Questo secondo trattamento in genere ricade tra aprile e maggio. Chiaramente dobbiamo stare attenti all'epoca della fioritura, un albero in fiore non va trattato. Infine si fa un ultimo trattamento che è il terzo a fine dell'estate prima della caduta delle foglie. Chiudo qui questo video, vi saluto, un abbraccio a tutti da Virgiorgio, ciao ragazzi alla prossima!